un monumento ad imperitura memoria delle capostipite di tutti i piloti pesaresi e della famiglia di pionieri dell'industria motoristica in città in una piovosa domenica d'ottobre tanti appassionati di moto si sono assiepati alla rotatoria di largo tre martiri con la circolazione stradale chiusa per l'occasione per veder svelato il monumento in omaggio al mito di tonino benelli cinque quintali di bronzo a ritrarre la leggenda che ha nascato il legame secolare fra pesore motori una statua realizzata da massimo fraternali del 10 per cento superiore alla grandezza naturale inaugurazione accompagnata dall'arrivo di una storica benelli 175 che ha alzato i decibel del rombo delle quattro volte campione d'italia fra gli applausi delle istituzioni che hanno reso possibile l'installazione dal comune al motoclub benelli fino al registro storico benelli presente anche l'asi in occasione del weekend asi show e l'amministratrice di benelli qj jan ahimei che da vent'anni guida l'azienda tenendo altissima la solidità del brand la storia in moto di pesaro parte grazie alla famiglia benelli che decide qui in mezzo alle fattorie di partire con l'industria la prima industria diciamo a sud del all'epoca era l'industria più a sud d'italia e parte a fare motociclette in una città dove le motociclette non c'erano parte a fare il moto e fratello più piccolo decide di cominciare a correre da lì la successione che ha portato dorino serafini silvio grassetti valentino rossi i piloti arrivare e partire da pesaro da lì sono partite le fabbriche quindi è partita la mba la moto b la morbidelli la tm la benelli che è sempre rimasta e praticamente tutto ciò è legato a tonino benelli questo vogliamo rappresentare con questa statua la storia motociclistica è di piloti di pesaro che ha avuto origine con tonino benelli che all'epoca rappresentava quello che per noi rappresenta adesso un valentino rossi un eroe per la città di pesaro che ci ha portato grandi nel mondo è una grandissima soddisfazione perché diciamo che staticizza blocca un po il momento di quello che è stato il precursore di tutta la categoria grande e folta schiera di motociclisti della zona pesaresi partiti appunto dal campione tonino benelli siamo partiti con un sogno incredibile che è stato quello del museo e abbiamo continuato con la statua di tonino benelli che è stato il capostipite di tutti i piloti pesaresi da tonino benelli riccardo brucia armando pizzioli dorino serafini paolo campanelli grassetti lazzarini graziano rossi e poi valentino rossi anzi io mi piace dire che valentino rossi è l'ultimo dei tonino benelli nato in questa città il più giovane dei fratelli che ancora l'orgoglio cittadino in motocicletto ovviamente ma chiamato paolo della benelli se faceva un bozzettino e da lì è nato tutto evidentemente gli è piaciuto il mio genere la la mia creazione un modello molto plastico semplice poi mi hanno dato sono venuto a trovarmi in laboratorio io ero di sassocoraro mi sono trasferito in romagna e ho cominciato a modellarla e lì è nato tutto è nato gli è piaciuto tanto hanno visto il modello e poi io essendo sia scultore che fonditore ho cercato di dare il massimo in questa opera e creare un anche una patina un po particolare diversa che riprendessi i colori del marchio del club benelli pesaro vuole sempre essere più una città un territorio pronto ad ospitare tutti gli appassionati di motori ma voglio ricordare il museo benelli importantissimo dove c'è praticamente la storia intera di quella che è stata la moto benelli nel corso degli anni voglio ricordare una collezione morbidelli attualmente ospitata al museo benelli ma che dovrà andare a quello che sarà il museo nazionale della moto all'ex tribunale al momento purtroppo non siamo riusciti a partire con i lavori però contiamo entro il 2025 di poter partire con i lavori anche per realizzare appunto il museo nazionale della moto